Ciao a tutti e benvenuti alla clip numero 9, siamo in perfetto assetto da studio di registrazione e quindi questa sera avremo anche un po' un saggio di quello che normalmente accade dietro le quinte quando si realizza qualcosa. Siamo alla clip 9 e parliamo ancora una volta della radio senza la radio, di questo grande format di tutti i suoi itinerari musicali di oggi e di sempre all'interno di un altro weekend importantissimo. Iniziamo già venerdì 1 maggio e sicuramente una data un po' particolare, una data proprio negli ultimi giorni anche un po' contestata per una serie di situazioni varie ma noi festeggeremo, festeggeremo perché comunque è un rosso e comunque ci porta giù al mare e giusto in prossimità di questa bella stagione estiva che sta per arrivare, questa grande stagione 2015 che ci riserverà sicuramente tante belle sorprese così come quelle che noi vi stiamo già regalando di volta in volta e questo anche con le grandi novità firmate rose vinerie, in questo caso in doppia firma con il chiosco del faro. Quindi un primo maggio tutto da vivere all'insegna della grande musica, sarà una maratona musicale che inizierà già come al solito dal mattino per attraversare tutta l'intera giornata fino al tramonto. Poi ci sposteremo in centro a vivere la grande notte, il grande venerdì che ormai è diventato una costituzione, un'abitudine standard diciamo da vivere tutta in centro al rosè. Poi sabato, sabato ancora una volta un altro grande appuntamento con la radio senza la radio per quanto riguarda la notte, la grande notte con il night clubbing, i 70, i 80, i 90 così come tanta altra buona musica ma soprattutto avremo anche una o due giorni fra sabato e domenica con la radio senza la radio presenti in un grande evento sportivo qui in città che coadiverà insomma porterà con sé oltre che il grande divertimento anche la tanta buona comunicazione e informazione che noi siamo soliti a dare quindi supporteremo anche questo grande evento sportivo. Quindi un fine settimana ricchissimo, ancora denso di appuntamenti, la grande radio senza la radio l'unico ed inimitabile format che riconosci dalla tanta buona musica, dalla grande musica ma soprattutto dalla grande voce. Mi raccomando vi aspetto, grande ponte del weekend e che direi, appuntamento al prossimo clip, restate ovviamente sempre con noi, ciao!